Ci sono tanti giocatori da piazzare, tanti esuberi per cui trovare una nuova sistemazione. Giorgio Perinetta e Luigi Condo stanno lavorando a ritmi serrati per riuscire a trovare presto una soluzione per tutti quegli elementi che non rientrano nei piani di Michele Pazienza, in modo quelli tornati alla base dopo il taglio dello scorso mercato invernale. Felice D'Amico, che reduce da sei mesi al Fiorenzuola, piace al Trento dove è arrivato il suo ex tecnico Luca Tabbiani e al gubbio del gruppo B, società con cui l'ex Palermo ha già giocato. Davide Mazzocco, rientrato dal preside a Latina, ha avuto un timido interessamento del Pescara. Centrocampista Veneto, piace al suo dalizio abruzzese. Come sempre i biancazzurri sono interessati a Fabio Tito, che piace anche al gubbio per Pasquale Pana. Ad oggi ci sono due piste, una porta a cava di Tirreni e l'altra alla Turis. Per Luca Falbe e Salvatore Pezzella, che da tempo interessa a Latina, invece ci sarebbe stato un timido interessamento da parte del neopromosso Campobasso. Già in settimana si potrà capire qualcosa in più rispetto alle uscite in casa Avellino. Fatto sta che sulle partenze ci sarà veramente tanto da lavorare.